La Giunta Capitolina ha approvato il piano Assunzioni 2020 di Ama. Si tratta di un importante passo all'interno del piano di risanamento per il rilancio dell'azienda. Dopo oltre sette anni di blocco del turnover che ha comportato un saldo negativo di 700 unità, commenta l'amministratore unico Stefano Zagis, potranno essere almeno in parte reintegrate le maestranze utili a ridare slancio alle attività territoriali. Arriveranno quindi nuovi operatori ecologici e cimiteriali, meccanici e addetti agli impianti di trattamento. Le scelte fatte nel periodo di Parentopoli, prosegue, hanno pesantemente condizionato qualsiasi possibilità di reinvestire sul capitale umano. Lo squilibrio relativo al costo del personale, frutto di scelte che prescindevano dalle puntuali necessità industriali, è stato finalmente superato anche in virtù della progressiva razionalizzazione degli straordinari. Ringrazio la sindaca Virginia Raggi per aver tenuto fede alle promesse fatte e le organizzazioni sindacali per il costruttivo confronto. Da parte nostra proseguirà l'impegno nel migliorare il servizio alla cittadinanza, conclude Zagis.